Aloe First, il rinfrescante spray di Forever, è il nostro prodotto per tutte le occasioni e anche uno dei più richiesti fra quelli dell'aloe vera. Bene utilizzato come base sia per la pulizia sia per la cura della vostra pelle. Con una combinazione all'80% di purissimo gel all'aloe vera appositamente coltivata per Forever e di 12 preziose erbe medicinali come ad esempio la camomilla, l'ecaolipto o anche lo zenzero. Oltre alla pregiata propoli, il First spray regala alla pelle un intenso effetto idratante insieme a molte sostanze nutritive. First rafforza la funzione protettiva della pelle già applicandolo al di sotto del vostro preferito prodotto di cura di Forever. Per questa ragione, come prima cosa da fare, vi consigliamo caldamente di applicare lo spray. Il nome First sta appunto a significare per prima cosa. Un effetto tonificante si produce anche subito dopo la doccia, spruzzando First spray su tutto il corpo, così da concedergli un tocco extra di freschezza e di idratazione. Grazie ai suoi ingredienti altamente benefici, il First spray all'aloe vera di Forever produce un effetto altamente rilassante e al contempo rinfrescante. Per questa ragione viene molto apprezzato quale integratore terapeutico nel caso di piccole scottature, escuriazioni cutanei o magari dopo un intenso bagno di sole. Anche dopo una rasatura offre il suo aiuto e si sa, di fronte a una pelle strapazzata e stressata, come ad esempio nel caso dei neurodermite, la pelle ha bisogno di cura e di idratazione. Proprio una pelle stressata di questo tipo è spesso molto sensibile al contatto e sa apprezzare i vantaggi offerti da First spray di Forever. First spray all'aloe si può applicare anche nella cura dei capelli, poiché ha un effetto altamente idratante sui capelli, proteggendoli ad esempio dall'eccessivo calore del phon e regalando loro una splendida lucentezza. Inoltre è di grande aiuto nel caso di cuoio capelluto sensibile, affetto da forforo e prurito. Dopo esservi lavati i capelli, spruzzatevi lo spray e massaggiatelo bene e soprattutto lasciatelo sui capelli senza sciacquarli. Ah, dimenticavo, una buona cura del corpo comincia già di mattina dalla bocca. First di Forever vi è di grande aiuto anche in questo caso quale colluttorio rinfrescante e tonificante con effetto terapeutico e nutriente sulla mucosa orale, così come sulle gengive. First di Forever è un prodotto per l'intera famiglia e non dovrebbe perciò mancare in nessuna casa. Il nostro First spray all'aloe è stato testato dall'istituto Dermatest ottenendo il giudizio ottimo. Ciò garantisce la migliore compatibilità con la pelle insieme alla massima qualità. Vi auguro buon divertimento con i prodotti Forever. Siamo noi la compagnia di Aloe Vera.